A Silvi l'ANAS ha avviato i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 553 per Atri, all'altezza della bretella di collegamento alla provinciale 29 che conduce a Silvi Paese. Si tratta di un'infrastruttura destinata a migliorare la viabilità nella zona e che permetterà di eliminare un incrocio pericoloso. Tanto ringraziamo ANAS per l'intervento che sta portando sulla S553 sul bivio di Silvi Alta e di Silvi Paese. Siamo felici di questo inizio di lavori soprattutto perché andiamo a mettere in sicurezza un incrocio fondamentale e molto pericoloso e dunque questi lavori miglioreranno sicuramente la viabilità mettendo in sicurezza la strada e a questo punto anche migliorando un attimino il deflusso dal periodo estivo quando Silvi Alta viene preso d'assalto ai turisti. L'area su cui sono iniziati i lavori è stata chiusa e dotata di apposita segnaletica per permettere ai mezzi di deviare verso percorsi alternativi. Allora la ditta ci ha assicurato che entro 30 giorni finiranno il cantiere, mi dispiace un po' per i disagi che si creerà a popolazione però siamo convinti che sarà un intervento come ho detto prima migliorativo e perciò la città ne aveva bisogno. Nel periodo di chiusura della strada interessata dai lavori ci saranno delle modifiche alla viabilità per chi è diretto a Silvi Paese si dovrà entrare nella strada provinciale 29 passando solo dalla rotatore di piane maglierici mentre chi dal borgo antico avrà necessità di mettersi nella strada statale 553 dovrà per tutta la durata dei lavori utilizzare il percorso in senso inverso. A un chilometro di distanza ci sarà la possibilità di riprendere la strada vecchia sulla SP29 e arrivare a destinazione.